buonasera cari amici benvenuti a un'altra puntata di dopo cena come sempre ci ritroviamo qui dopo il telegiornale per discutere di tante cose di presentarvi anche avvenimenti e quanto accade nella nostra città e su questi divani rossi passano tante persone di svariata natura e insomma quello di questa sera è sicuramente un personaggio che impareremo a conoscerlo ma ha a che fare anche con noi non è di fano come me quindi insomma tra tra due non fanesi insomma cercheremo di di cavacela anche se parleremo di di fanesitudine di episodi accaduti a fano insomma il bacino è sempre è sempre questo lui previene da una terra un po fredda dal friuli però è un ragazzo di grande passione è un ragazzo di grande sentimento e qui nei nostri divani in tutto il suo splendore dennis casarsa ben arrivato ciao lino grazie buonasera a tutti ho detto che insomma non sei di fano sei friulano quindi da quanto tempo sei qui ormai di quasi dieci anni dieci anni quindi più o meno come come me occhio e croce quindi siamo due importati a cui c'è subito piaciuta fano però immediatamente immediatamente ti ci innamori conferma anche tu come me insomma il sentimento ti ha veicolato in questo posto fanno nel cuore siamo tutte e due insomma vittime della stessa della stesso destino insomma l'amore il cuore ci ha portato ci ha portato qui in questa città e ce ne siamo innamorati oltre che delle nostre belle anche insomma della nostra terra della nostra terra insieme a te vediamo due presenze insomma sì ci sono due presenze qua ecco bene allora parliamo di una di una cosa che tu hai creato hai messo hai messo in questa prima parte della della puntata perché divideremo la puntata di dopo cena in due in due pezzi in questo pezzo questo pezzo parliamo di qualcosa che hai voluto creare di un po diverso dalla tua natura perché tu insomma sei dal punto di vista artistico un cantautore scrivi testi musica qui parliamo di film di corti però tutto un'altra cosa sì ho messo un attimo da parte il mio essere cantautore cantautorato la canzone d'autore perché ho sempre avuto anche appunto facendo il cantautore realizzo i video delle mie canzoni ho sempre avuto un po la la passione delle video della produzione video mi ha sempre il mondo che mi ha sempre affascinato e come tutti chi si apprezziona al mondo della cinematografia alla fine editi il film il corto però il cortometraggio non mi permetto di mettermi a fare un film non avrei neanche le capacità però i corti sono sono cose molto simpatiche secondo me divertenti certe volte trovare l'idea che è difficile un giorno proprio qui a fano nel parcheggio dello sport park lo diciamo io vedi una scena che quando finì di ridere ho detto questa questa deve essere un corto ci ho messo qualche tempo a elaborare come come poterla realizzare cinematograficamente perché non sia magari un banale scherzo o alla fine tentare di non che non facesse ridere e alla fine l'ho realizzata scegliendo due protagonisti perché un piccolo corto di cinque minuti dove sono essenziali due due protagonisti uno l'opposto dell'altro ecco e ce li abbiamo qui sul sul divano presentali tu chi sono quindi i tuoi protagonisti allora uno l'opposto dell'altro proprio io non l'avrei così a colpo d'occhio non avrei detto mai pensavo che fossero fratelle e sorelle perché da allora nel corto sono la bella e nervoso allora è la bella giusto per capire bene i ruoli alle volte si potrebbero confondere allora raccontiamo più o meno cosa ho visto cosa ho visto nella diciamo chi sono diciamo chi sono prima ok diciamo chi sono sono allora sono federica rossi ballerina modella e quello la il mitico il grande secondo me stefano montanari del gas ecco insomma quindi di comprovata teatralità e quindi insomma dopo capiremo come si è calato in questa veste cinematografica allora cosa vedi quella volta esatto qual è l'episodio scatenante la tua fantasia ero nel parcheggio lì dello sport park stavo aspettando la mia compagna che era andata a fare la spesa a un certo punto ero lì così tranquillo sento un gran frastuono un gran bozzare mi giro e vedo una signora tutta nervosa tutta impettita una gran confusione che tentava di aprire la macchina ma non li si apriva ma la calciava completamente tutta in giro in giro tutta calciata ha preso a calci tutta la macchina ha preso a calci quando voi non avete qualche contrarietà già prendete a calci la macchina che meno male non capivo poi quando ho visto il finale hai capito perché la calciava ho capito perché la calciava ancora non te lo dico no non lo svegliamo perché poi dopo giustamente insomma finite queste 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 chiacchiere vedremo insomma la clip il corto che hai girato che ha una finale insomma che non va svelata ma va vista se non si perde tutto il gusto però insomma questo episodio ti ha fatto venire l'ispirazione io lo devo realizzare un po complice è stato quest'estate tutto l'estate ha avuto l'onore la grande soddisfazione di girare con la di Henry Secchiaroli con i film Stregati della Bruna e quindi avendo a che fare con una troupe cinematografica ho detto lei ci provo anch'io a fare una piccola cosa no un po mettendo insieme gli insegnamenti perché girare con una troupe vera ti insegna tanto ho provato a renderlo cinematografico vedere cosa cosa possa venire fuori allora il corto intanto si chiama Stai Sereno Stai Sereno il messaggio che ho voluto ho voluto dire volevo che il corto vuole lanciare è semplicemente se stai tranquillo se stai sereno tutta la vita la prendi in maniera migliore ecco e allora cosa ho fatto ho voluto costruire che è il motto di loro due insomma si 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 capisce molto bene si capisce proprio dall'espressione della mimica facciale che che insomma sono due persone che la prendono con filosofia perché se prendete le cose con filosofia insomma discorre un po un po meglio insomma diciamo la verità no è giusto quindi mi serviva un nervoso un nervoso incallito e chi meglio di Stefano vedendolo ti ha appena dato del nervoso incallito si si ma in realtà in realtà anche mi capita di sei fumino si 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 voglia voglia quindi questo vale molto per me questo insegnamento ti sei trovato ti sei trovato si in realtà quando l'ho chiamato perché ho pensato a lui per quando lo vedo nelle commedie del Gaff che ha sempre l'uso signoretti che è stato lui ha un po a dirmi Stefano no lo vedo nelle 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 parti sempre da arrabbiato quindi è uno che riesce molto a immedesimarsi in quella parte no curiosità quando giravamo il corto lui doveva fare una persona molto nervosa no allora lo vedevi lì ma io non so farlo come lo sa fare lui a un certo punto faceva nervoso è così eccola è così va bene così beh chiaro l'attore è attore per quello no cioè si immedesima ma poi in realtà scusa in contrasto a questo nervoso doveva contrastare la classica come si dice nel gergo la bellona di turno che andasse un po a non è la parola giusta forse ma a svergognarlo a fargli fare il finale ecco lei appunto la conosco perché nella mia scuola con Mattia Diamantini l'ho vista alle sfilate come si dice il suo stacco di gamba per sfilare mi serviva di quadratura particolare lei è venuta una scelta quasi spontanea insomma va bene quindi abbiamo abbiamo un contrasto di ruoli di insomma di anche di fisicità che insomma evidenzia la parte insomma è la figura barbina insomma che dopo non svegliamo qual è infatti due mondi anche opposti lui nervoso dentro una palestra e qui mi è dovuto ringraziamento alla Neonatine Academy di Mattia Diamantini che mi ha per un sabato pomeriggio mi ha dato le chiavi della scuola tieni fai quello che vuoi contrastato a lei dentro panicali ambienti che anche loro ci hanno fornito la loro location per fare l'opposto dei due mondi il mondo della palestra con il mondo del negozietto raffinato la cosa più difficile è stata la macchina la macchina la macchina sono rimasto meravigliato quando il nostro central garage di Fano mi ha dato la macchina nuova da vetrina me l'ha portata dentro il parcheggio della Neonatine Academy abbiamo chiuso i cancelli ovviamente perché era una macchina senza targa proprio non ho dovuto portarmela agli autisti è stata una mia grande sorpresa che hanno accettato di farmi questo prestito e ho riprodotto un ringraziamento anche a loro che ti hanno messo a disposizione sapendo poi come sarebbe andata non te l'hanno lasciata proprio a cuore leggero ma ha detto speriamo che vada tutto bene perché hai visto mai proprio Stefano che era quello che doveva inviare con la macchina ha avuto le sue paure si è raccomandato molto di non prenderla a calci veniva eh veniva allora ti abbiamo visto nell'ultima comedia del Gaffling anche lì fai un bel personaggio carico insomma abbastanza irracondo, irascibile con una moglie che lo massacra dalla mattina non deve essere facile quindi immagino che con una moglie così venga facile montare molto molto però com'è stata questa trasposizione dalle tavole del palcoscenico alla camera? è diverso eh perché comunque è il pubblico e qui invece c'hai solo la telecamera davanti un po' ti senti un po' spaisato però il corto è stato fare questo corto è stato divertente è stato un piacere perché eravamo poi comunque tutti in famiglia eravamo si creava un ambiente si 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 e si è riso tra l'altro no? un po' tra l'altro Lino curiosità non l'hanno ancora visto ci voleva rimanere tra l'altro ancora non l'ho visto non so com'è andato non so com'è andato quindi lo vedremo insieme a loro perché adesso fra pochi minuti lo vedremo lo vedremo insieme a loro quindi sarà anche per loro una prima assoluta una prima assoluta tu invece come hai interpretato il ruolo di colei che doveva fare un po' da contraltare insomma con l'alleggiadria con la bellezza a questo irascibile fumino personaggio ma io mi sono divertita molto innanzitutto soprattutto perché appunto ci siamo abbiamo riso abbiamo scherzato tutto il pomeriggio è stato veramente divertente per me era la prima volta a fare un cortometraggio ho sempre fatto sfilate spettacoli di danza però questa era la prima volta quindi ringrazio Dennis per l'opportunità ed è stato veramente divertente mi sono divertita tanto beh immagino anche divertissi vabbè poi tu se fai danza se fai così insomma mettersi in gioco un po' e anche ci sta quindi insomma ti sei divertita molto va bene appena finito mi ha detto bello ne è un altro eh vedi l'appetito vi è mangiando c'è preso gusto c'è preso gusto ce l'ho un altro Lino ce l'ho ma questa volta mi serve un elicottero un elicottero è un po' una gara dura adesso non ti allargare voglio dire una macchina una vespa una bicicletta la troviamo un elicottero insomma adesso mi serve un elicottero per questo però lo faremo ci lavoreremo andiamo all'aeroporto di Fano vediamo cosa piccola soddisfazione piccola soddisfazione mia personale con questo cortometaggio sono riuscito a partecipare a entrare dentro il Fano Pins Festival che cos'è non da poco è andato in scena no è andato in scena no perché non si è qualificato però è andato nelle selezioni sono riuscito a portarlo dentro il Fano Pins Festival è una piccola soddisfazione diciamo che come opera prima come opera prima non potevi che debuttare meglio di così come opera prima perché insomma giustamente ad accedere al Fano Pins Festival che ricordiamo tutti essere un festival di corti internazionali quest'anno poi si è aperto anche al insomma al film un po' più più lungo però insomma è gettonatissimo arrivano film da tutto il mondo filmmaker che sono e attori che sono diventati registi e attori di fama internazionale mondiale che li vediamo nei film nelle sale di cinematografia sono passati dal Fano Pins Festival quindi hai visto mai Dennis tu un piedino ce l'hai messo poi dopo vediamo cosa viene fuori certamente bene immagino che insomma per queste registrazioni ci sia un'equipo uno staff una troupe quindi giustamente non sei stato il solo a girarlo mi metto fra virgolette parolona in regia o dietro una telecamera per fare le riprese ma dietro ho sempre la mia squadra la chiamo quella che un po' vediamo in giro anche per Fano per le fanesitudini nei vari eventi della Proloco dove ci capita di essere in giro dietro le telecamere qui abbiamo Carlo Circolani l'immancabile Carlo Circolani con la moglie di Gigliola Stefanelli e Ilario Gaggi alle macchine fotografiche e nel ruolo inconsueto di microfonista metafonico e ho messo a lavorare la Katia mi sembrava giusto avere un apporto anche insomma di questo livello nel tuo corto nel nostro piccolo esatto fare bene quindi insomma c'è di tutto grazie per essere stati qui insieme a noi insieme a Dennis Dennis noi non ci abbandoniamo perché ci vediamo dopo e godiamoci insieme insieme a loro che lo hanno realizzato e lo hanno recitato e insieme a voi che lo vedete per la prima volta questo corto by Dennis Casarsa vediamolo com'è il titolo prendila con stai sereno vediamoci il corto di Dennis grazie a tutti arrivo tutto questo che arrivo cosa vuol dire che arrivo la spesa anche la spesa devo fare ma non c'è il tempo ma perché mi tronde no porca miseria ti ho detto che sono in palestra oh arrivo arrivo mi dai il tempo mi dai come faccio devo andare devo andare a lavorare sono in palestra mi devo cambiare ancora ma perché ma quanto sei rotto ora non non ahhhhhhhhhh oh 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 perché non ti apre adesso perché e ah 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 Cosa c'è? Ancora? Cosa! Non mi si apre la macchina! E la soca è nuova! E non mi si apre! La soca è nuova! La soca è nuova! La soca è nuova! La soca è nuova! Sei qui perché, insomma, Dennis cambia veste, cambia pelle, ma rimane sempre lui in realtà. Perché un altro aspetto della tua vita artistica è quello cantautorale, musicale. E in questa parte ci vuoi presentare una cosa alla quale tu tieni molto, per tanti motivi. Che cos'è? Sì, sì, sono tanti i motivi, veramente. Ritorno a quello che è gli albori della mia persona, è l'essere cantautore proprio. Prima è stata una parentesi questa di regista, autore di un cortometraggio. Io realmente nasco autore e compositore, diciamo. Ho voluto portare questo contributo, farlo vedere finalmente dopo due anni, quasi che l'ho realizzato, in un'occasione particolare, in una ricorrenza. perché, secondo me, cosa tratta, cosa riguarda, soprattutto riguarda una persona, riguarda una persona che era veramente una persona speciale, dico era. Quindi puoi già capire che è una persona che non c'è più tra noi. Nasce tutto da un servizio che due anni fa vidi a Fano TV durante il TG. L'ho portato, ho riportato io un vostro servizio del TG di quell'epoca e poi vi racconto cos'è successo. Bene, allora, l'occasione era un'occasione molto particolare, molto speciale. insomma, la ricorrenza di un passaggio qui a Fano di una personalità estremamente importante, parliamo di Papa Voitila che ha segnato i cuori di tante persone e soprattutto è una pagina molto cara a tanti fanesi della vita sociale, pubblica, religiosa della città di Fano. Quel passaggio fu ricordato in occasione del trentennale, proprio con un servizio che mandammo nel TG. Occhio alla notizia. Allora guardiamolo quel servizio e così vediamo anche qual è il personaggio al centro di questa vicenda. 12 agosto 1984 Benvenuto Padre Santo sopra il mar desta città Do se senta ancora il canto del marinar che salpa e va Benvenuto Papa Voitila tra sta gente pescatora che arponde entro la stiva la speranza sul sudore. E' un benvenuto a Papa Giovanni Paolo II con parole d'amore a lui dedicate. Un avvenimento storico in cui, come racconta la poesia, tutto il mare era in festa quel giorno, trasformato per l'occasione in un unico grande altare. Tanta la gioia della comunità ed in particolare dei pescatori fanesi. Oggi, insieme se i pescatori si adefancano fuori via, c'è il vicario del Signore, al timone, la paratia. Lui è venuto per condividere le fatiche di marinare. Lui ha voluto essere la guida di chi suda sopra il mar, di chi passa notte giorni distante dalla famiglia, dentro il mar, sempre dintorno, come se fosse una conchiglia. E' una poesia inedita, scritta in dialetto fanese da Rino Magnini, pochi giorni prima dell'avvenuta a Fano di Papa Voitila. Nonostante sia passato del tempo, si percepisce ancora nei suoi occhi un'emozione particolare, la stessa emozione provata il 12 agosto di 30 anni fa. L'ho scritta per il grande amore nei suoi confronti, perché per me rappresentava e rappresenta un Papa innovativo. A che cosa si è ispirato? Mi sono ispirato al mare, alla sua presenza nel mare, e quindi un fatto nuovo per Fano, ma anche in Italia, insomma. E' una poesia che non è mai stata pubblicata? No, purtroppo no, ma adesso c'è l'occasione del trentennale e quindi sono contento. Ringraziamo purma il Signore per la grazia che ci ha fatto, perché questo è un gran donore che ne avremmi meritato. Ebbene, questo era il poeta Rino Magnini, il servizio passato nel telegiornale Occhina Notizia proprio, in occasione di questo trentennale, di questa ricorrenza. Tu hai visto questo servizio, hai sentito le parole del poeta che sei stato colto da ispirazione. Una poesia scritta trent'anni prima, che lui, come dice nel servizio, era scritta in occasione della venuta del Papa a Fano. Io l'ho sentita, l'ho compresa, perché anche, come dico sempre, io da friulano, ormai dieci anni che sono a Fano sono talmente... Tra stranieri ci si capisce, anche io non è che... Sono talmente legato a Fano, per me la sento mia, quindi l'ho compresa, comprendo il dialetto fanese, parlarlo ancora, però la comprensione c'è. L'ho sentita, mi è piaciuta così tanto, che ho contattato la redazione di Fano TV, chiedendogli, senza un problema, mi date il numero di questo poeta. La redazione, gentilmente, mi fornì il numero e io lo contattai. Era agosto del 2014, mi ricordo, in occasione di un giro per Fano proprio, il poeta venne in piazza a 20 settembre a Fano a incontrarmi, dicendo cosa vuole questo, no? Colto da sorpresa anche lui, immagino, no? Eh sì, e gli ho spiegato tutto quello che mi era venuto in mente, sentendo la poesia, volevo metterla in musica, volevo provare a legare, come dico io sempre, fare un matrimonio, che è la musica, col dialetto, la poesia e le fanesitudini, perché questa è una delle più grandi fanesitudini che abbiamo, ricordo di Papa Fano. Lui accettò, mi portò la poesia scritta da lui, in modo che avessi il testo, mi fa, libero, fai pure, te la do, mi ha detto, no? Io cominciai a lavorarci, a musicarla, in diverso tempo, ragionai su come farla, come non farla, mi venne fuori un certo tipo di prodotto, che però parlava da sola, era come se mi dicesse, questa la deve fare lui, non la devi cantare tu. Lo ricontattai e gli ho detto, io l'ho fatta, te la vengo a far sentire, però la realizzo, ma sarai tu a entrare parte viva della canzone, chiamiamola. Gliela portai, mi ricordo una sera, andrei a casa sua, proprio, sempre con mio affidato iPad, gliela feci sentire fatta da me, che tra l'altro, una curiosità di quella sera, lui mi disse, canti imperfetto dialetto fanese, detta da lui, e l'ho creduto, accettò anche il fatto di mettersi in gioco, alla sua età, lui si definiva la mia vera e grande età, si mise in gioco, ok, la incidiamo, no? Che succede? Chiedo in prestito il Politeama di Fano, è responsabile del Politeama, per poter incidere il poeta. Allestì sul palco del Politeama una specie di sala di incisione, misse il poeta davanti al microfono in cuffie, e lo incidemmo, poi incidemmo anche la mia parte, lì tutto il video, infatti il video ufficiale, è stato tutto ambientato al Politeama. Cosa particolare di questo video che è uscito, e sì che è uscito fuori, lo studio del bianco, il fotografo del bianco di Fano, mi diede all'epoca, sempre all'epoca, perché è due anni fa che ho fatto questo lavoro, mi diede del materiale personale suo, sull'arrivo del Papa Fano, che usa questo, che è un materiale un po' meno conosciuto, quindi ho anche avuto l'onore di poter integrare nel video del materiale insolito, al di là delle immagini che mi hanno visto nel servizio, o di quello che si vede normalmente, se si ricorda il Papa Fano. Bene fuori questo prodotto, lo completai, purtroppo un brutto vizio che mi rimane tante volte, io tante volte sono quello che rimanda, ma sì faccio dopo, ma sì così, ma sì, gliela farò sentire, gliela farò sentire, è venuto a mancare, e quindi è venuto a mancare, non ho avuto la soddisfazione e l'onore di poterla farla sentire, l'ho sentita solo appena incisa, senza la post-produzione, tra l'altro è un brano a cui ho tenuto veramente molto, tanto vale che l'ho portato a Nizza, in Francia, a mixare da un professionista in uno studio professionale, non l'ho fatto nell'ambiente casalingo, è andato proprio a livello professionale, e anche la sua famiglia, nessuno è a conoscenza di questo materiale che questa sera ho portato, che vedremo per la prima volta. Quindi abbiamo un inedito? Totalmente, ho tenuto nel cassetto per tanto tempo, per due anni più o meno, e oggi ho deciso di farlo vedere. Come mai hai deciso di farlo vedere? La curiosità è lecita, insomma. Ho deciso di farlo vedere, soprattutto per ricordare una persona che io ho conosciuto, speciale dire poco, era di un'umiltà, di un mettersi in gioco, una persona eccezionale, si voleva anche proseguire con questo progetto, lui mi piaceva questo connubio tra la musica e la poesia, mi aveva dato anche altri scritti, o anche altri scritti dati da Rino Manini, ce li ho nel cassetto, avevamo realizzato solo questo. Ho deciso di farla vedere, perché è appena passato l'anniversario, il 20 novembre della sua scomparsa, è un po' per ricordare appunto una persona che a Fano era benvoluto da tutti ed era semplice e straordinario allo stesso tempo. Un cultore del dialetto, dell'affanesitudine, non è facile musicare una poesia? Non è facile, non è facile perché io ho provato a lui a farlo cantare, io che risolto riesco a far cantare tutti, tutti, lo sappiamo. Tranne me. Non abbiamo mai provato. Va bene, non ti cimentare in questo, potresti avere tutte sorprese. Ho provato quella sera al Politea, ma no, non mi posso neanche mettere in un... anche perché lui a una certa età l'ho fatto uscire la sera, più di tanto non poteva stare. Ok, facciamo la strofa recitata, infatti le strofe della canzone sono recitate a tempo di musica, quindi lui ha recitato stando a tempo nella musica, mentre il ritornello mi sono permesso io di farlo melodico, cantato, come ha detto lui, il dialetto va bene, ci crediamo, ci crediamo. ho imparato, sinceramente, sempre con l'aiuto della solita Katia che ormai, ho imparato il ritornello, quel pezzettino in perfetto accento soprattutto. Ecco, perché è quello che ti frega, è l'accento. E abbiamo registrato questo video e adesso lo facciamo vedere. Anche come omaggio per la sua famiglia, ora lo potranno vedere. Benissimo. Perché sapevano, era andato lì, anche con il suo amore, erano lì, però nessuno l'ha mai visto. E spero che, come si dice della sua, anche lui lo possa rivedere adesso. Bene, allora, insomma, a favore di tutti, di tutti quanti hanno amato il poeta e naturalmente ne hanno apprezzato il lavoro e le opere, per la famiglia che insieme a noi lo guarda insieme questa sera e anche per Dennis che lo ha realizzato, che si è tanto impegnato e quindi, insomma, è giusto chiudere questa puntata guardandoci proprio il lavoro scatturito da questa collaborazione, da questa fusione di musica, poesia e dialetto che ha dato vita, appunto, a questa bella esperienza che, insomma, chissà che non sia fuoriera di altre cose. Quindi, insomma, grazie Dennis per essere stato qui con noi. Grazie a te. per questa puntata così come dire variegata su più aspetti, la stessa medaglia con le due facce, una medaglia con due facce in questa puntata, benissimo. Quindi, grazie per essere stati insieme a noi per questa puntata di Dopocena e vi lasciamo col video proprio del poeta realizzato da Dennis. Alle prossime puntate, ciao, guardatevi il video. Grazie a tutti. Benvenuto Padre Santo sopra il mar desta città, tu se senti ancora il canto del mare inar che salpa e va. Benvenuto Papa Voitila tra sta gente pescator che arponde entra la stiva la speranza sal sudor. benvenuto Macchiaffan Padre San del mondo intero oggi sarà ancora anche il gabian che del mar è prigioniero. Tra ste barche e sti barchetti oggi è l'utile successore di San Pietro che faceva il pescator pescator d'umanità che salpava ogni momento navigando qua e là sul mare grosso e contravento pinte forze e coraggio pilutate da Gesù Cristo sempre pronti al salvataggio di chi buono e di chi trist oggi è prestato tutto il mare trasformato per l'occasione in un unico grande altar sotto un fin d'emozione oggi siamo sei pescatori sia dei fanno che di fuori via salvi cari del signor alti montra parati a l'ho e l'ot per condivida le fatig di marinar l'ho avlut essa la guida di chi sciuda sopra il mar di chi passa notte giorni distanda la famiglia dentro al mar sempre dintorne come se fosse una conchiglia l'ho è venuto a illuminare ma chi viaggia senza fede che è lì per affondare perché il faro non si vede e ma quel che si è smarito percorrendo la rota storta o che ormai mi abilito e avanti non importa ringraziai pur ma il signor per la grazia che ci ha fatto perché questo è un gran dolore che non avresti meritato oggi è infestato tutto il mar trasformato per l'occasione in un un grande altar sotto il pind emozione oggi io siamo sei pescatori sia di fanno che da fora via salvi cari del signor alti montra paratia a a a a ehi sentiamo mi sento carmelo bene mi senti carmelo bene mi senti carmelo bene si è partito prima lo sento andiamo a a bar a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.